Grazie alla consueta operazione Mare Sicuro sono stati intensificati i controlli da parte della Guardia Costiera di Vibo Valencia Marina lungo tutto il tratto litorale di competenza per garantire la sicurezza sia dei magnanti che dei diportisti, nonché il corretto espletamento delle attività balneari. Ed è proprio in quest'ultimo ambito che durante alcuni controlli effettuati sul demanio marittimo dalle pattuglie terrestri sono state fatte molte sanzioni per inosservanza delle disposizioni contenute nella vigente ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Vibo Valencia e delle ordinanze balneari emanate dai comuni rivieraschi. Inoltre durante alcuni controlli eseguiti insieme al personale di Locamare di Tropea sono state elevate diverse sanzioni amministrative per oltre 6.000 euro per ormeggio sotto costa oppure per il superamento del numero dei passeggeri previsti dalla certificazione di sicurezza o ancora per irregolarità nella composizione minima dell'equipaggio per l'imbarco di personale a bordo senza la prevista annotazione sul ruolino di equipaggio.